Il voto unanime sul Presidente del Consiglio Comunale, così come previsto, era soltanto una chimera. Alla fine dall'urna sono venute fuori 14 schede a favore del candidato Antonio Donato, esponente della città, che vogliamo 7 voti per Giusefiore e 4 voti per un esponente della maggioranza. Su tre schede c'era scritto solo Tortora, su un'altra Tortora G, che è Gianluca, quindi probabilmente i voti erano riferiti tutti all'esponente di Forza Italia. Capire da dove provengano questi voti potrebbe essere semplice. Fin dall'inizio Grande Pagani, con i suoi tre consiglieri comunali, si era schierata contro la possibile elezione di Antonio Donato. Il quarto voto a questo punto, presumibilmente, ovviamente sono delle ipotesi, potrebbe essere giunto dall'esponente di Forza Italia, da Luca Tortora stesso. Ovviamente queste sono, come dicevo, delle ipotesi che possiamo formulare, perché parte della minoranza ha espresso pubblicamente in aula. Sette consiglieri di minoranza hanno affermato che avrebbero votato per Giusefiore. Antonio Donato dovrebbe aver conquistato anche il suo voto e quello di Rita Greco e poi i 12 voti della maggioranza. Ovviamente questa votazione alimenta quelle che sono le voci di già crepe interne a questa stessa maggioranza, che lo stesso sindaco in realtà sembra valorare nelle sue dichiarazioni. Bottone parla infatti già di una verifica di maggioranza, di un confronto con Grande Pagani, a questo punto anche con Forza Italia. Ma ascoltiamo le interviste che abbiamo realizzato. Sindaco, lei aveva auspicato una votazione unanime a grande maggioranza per il Presidente del Consiglio Comunale che fin dall'inizio ha offerto alla minoranza, così non è stato. Ci sono dei voti per Gialluca Tortora, che è un esponente della maggioranza. L'opposizione mi sembra abbia votato compatta almeno quei sette su Giusefiore. Da dove vengono quei voti per Tortora secondo lei? C'è ancora qualche problema con Grande Pagani? Non lo so, adesso se lo dovrà chiedere Grande Pagani se ha qualche problema, perché io problemi non ne ho. Se c'è la maggioranza noi andiamo in Consiglio e promuoviamo le questioni che dobbiamo porre alla città. Quindi problemi non ne ho io, vado in Consiglio, se c'è la maggioranza siamo lì. Se non c'è maggioranza torniamo a casa tutti quanti tranquillamente. Ci sarà quindi subito una verifica da ingiunta, se si capirà che questi voti sono di Grande Pagani? Certamente, senza mezzi termini. Quindi sarà zerata subito l'aggiunta o sarà sostituito l'assessore? Non lo so, ma vediamo, verificheremo. Si aspettava qualcosa di diverso stasera come inizio? Mi aspettavo serietà e rispetto nei confronti delle istituzioni e della città. Dalla minoranza invece si aspettava che convergessero su Donato. In realtà questo nome circola con insistenza da diverse settimane. Loro avevano fatto proposte diverse, potevate anche come maggioranza convergere ad esempio su Giusefiori? Sì, si poteva convergere se la minoranza fosse stata unita. Ma siccome credo che per quanto riguarda un gradimento su quello che doveva essere l'individuazione del Presidente del Consiglio, aspettava anche alla maggioranza avere la possibilità di individuare il Presidente del Consiglio. Grande Pagani ha tre voti, per Tortora ce ne sono stati quattro. C'è un problema anche con qualcuno di Forza Italia? Non lo so, è probabile, andremo a verificare. Quindi andrete a verificare anche il ruolo del Vice Sindaco che è di Forza Italia, visto che i quattro voti, se li sommiamo ai tre di Grande Pagani, più uno di Forza Italia, il problema lei ce l'ha con una parte di Forza Italia e con Grande Pagani. Ma questo è il disegno di qualche grande stratega che sta lavorando dietro le quinte da parecchio tempo. Alla fine il Presidente del Consiglio Comunale, come è ampiamente previsto, è Antonio Donato. C'è stato un dibattito molto acceso su questa nomina, l'opposizione aveva fatto altri nomi. Ma in verità hanno soffocato il dibattito imponendo un nome non gradito neanche da una parte della maggioranza che si è ribellata giustamente ad una imposizione e probabilmente al pagamento di una cambiale preelettorale. Era un nome già precostituito, non c'è stato nessun dibattito, noi volevamo votare insieme alla maggioranza in uno spirito di collaborazione, un Presidente all'unanimità, come è giusto che si faccia in questi casi. Invece c'è stato probabilmente un ordine di scuderia che ha soffocato anche il dibattito in maggioranza e questo non fa bene alla democrazia, per cui noi siamo solidali anche con quella parte della maggioranza che non ha votato Donato perché non lo voleva, non riteneva giusto l'imposizione e perché noi siamo in democrazia. Questo è il Parlamento dentro al quale si devono confrontare tutte le forze politiche, il confronto non c'è stato, non è stato voluto, c'è stata la farsa di chiedere alla minoranza un nome mentre invece era già tutto deciso perché non so con quale incapacità si sono tutti quanti, o buona parte, ritrovati su un solo nome e fortunatamente c'è una parte della maggioranza che invece vuole dialogare, vuole dibattere e vuole rafforzare lo spirito democratico che non lo ha votato per cui un presidente di mezzato non può essere il presidente di tutti. Donato a voi non stava bene, era comunque della minoranza, era un nome indicato insomma già ampiamente giorni prima di quel confronto? A noi stava bene qualsiasi nome che poteva essere concordato e concertato in trasparenza, non si è consumata una votazione trasparente perché nessuno della maggioranza ha avuto il coraggio di dire che votavano Donato, lo hanno fatto nel chiuso di uno stanzino e soprattutto lo hanno fatto soffocando anche quella parte di maggioranza che invece chiedeva un dibattito come si fa di democrazia e di dialogo. Questo non c'è stato e ribadisco, noi prendiamo atto di questa votazione, ci interessa sapere qual è stato il metodo e chiaramente stigmatizziamo una imposizione fatta da buona parte della maggioranza che ha imposto ai consiglieri un nome non gradito perché Donato è stato eletto con 14 voti, quindi una parte della maggioranza si è giustamente ribellata perché quella parte della maggioranza che probabilmente voleva veramente il dialogo, voleva veramente il confronto, che non c'è stato. Probabilmente bisognava pagare una cambiale elettorale e ecco qua è stata pagata. Solo 14 voti per Antonio Donato, segno evidente che in maggioranza c'è stato qualcuno che non ha scelto quel candidato. Noi abbiamo dichiarato che avremmo scelto un nome espresso dalla maggioranza, dalla opposizione e abbiamo scelto Antonio Donato, abbiamo fatto dichiarazioni di voto, poi ciascuno vota secondo coscienza. L'importante è che fortunatamente questo paese ha un'amministrazione stabile che lo guida. Oggi ha anche un Presidente del Consiglio, una persona di esperienza, quindi dobbiamo soltanto andare avanti per portare a termine tutti i progetti che già sono in cantiere. Ma c'è qualche problema anche in Forza Italia? Qualcuno che non ha votato il candidato, insomma indicato, quantomeno dalla maggioranza che era Donato, perché abbiamo visto dei voti per Gianluca Tortora? No, Forza Italia è compatta, è unita nelle scelte della maggioranza. Va sgomberato ogni dubbio su questo. Il consigliere però lei deve spiegare questi quattro voti della maggioranza, Gianluca Tortora di Forza Italia, come li spiega? Lo chiede a Gianluca Tortora, io le so dire che sono convinta che Forza Italia è unita, non ci sono stati problemi, non c'è stata nessuna questione. Quindi è la maggioranza che è divisa, non Forza Italia? No, Forza Italia assolutamente, siamo stati tutti coesi nel nome di Donato, ci siamo sentiti con il sindaco e abbiamo scelto Donato. Fin dai giorni scorsi si diceva che Grande Pagani non avrebbe votato per Antonio Donato, ora ci troviamo con quattro schede a favore di Gianluca Tortora e soltanto 14 per Antonio Donato. Cos'è accaduto in maggioranza? C'è una maggioranza spaccata? Non credo, non credo, ma comunque è da capire chi è stato, chi ha votato. Vuol dire che non siete stati voi? No, il voto è segreto, non credo di potermi esprimere in questo, non voglio nemmeno indicare. Noi tutte le scelte che fa Grande Pagani è solo ed esclusivamente per il bene della città, quindi le scelte che facciamo sono scelte ponderate e indichiamo e scegliamo le persone più qualificate secondo Grande Pagani e per il bene della collettività. Dopo la votazione per il Presidente del Consiglio, il sindaco Bottone facendo riferimento proprio a Grande Pagani parla già di una possibile verifica in maggioranza e di possibile anche rimodulazione dell'esecutivo. Perché c'è bisogno di fare ancora un'aggiunta più grande, qualitativamente più forte? Non so perché mi fa questa domanda. Insomma, sentendo il sindaco, parlando di verifica, si poteva ipotizzare addirittura una nuova possibile revoca dell'assessore di Grande Pagani, insomma non vi ritiene parte della maggioranza? Leggendo le sue dichiarazioni mi sembra di capire questo. Mi giunge nuova questa tua domanda, oppure questa affermazione del sindaco, scusami. Noi siamo organico a questa maggioranza, siamo lì dove il popolo ha deciso che stessimo con 1.600 preferenze, con tre consiglieri comunali. Penso che non bisogna guardare a questa votazione del Presidente del Consiglio per decidere se una squadra è in maggioranza o meno. Bisogna guardarla sui grandi temi che interessano questa città, no sulle poltrone. Noi siamo, e lo ripeto, fino all'infinito. Noi vogliamo lavorare per il bene di questa città. Le poltrone non ci interessano. Fin dall'inizio Grande Pagani si era schierata, tra virgolette, contro il nome di Antonio Donato, per cui è presumibile che quei voti a Tortora possano essere giunti anche dal vostro gruppo. Voi non volete rivelare la vostra votazione? Ma assolutamente noi non eravamo contro nessuno. Noi eravamo per un'elezione fatta all'unanimità. Così non è stato, ci dispiace molto, però io posso dire solo che siamo stati organici alla maggioranza. Se il Sindaco pensa che Grande Pagani abbia creato frizioni all'interno di questa votazione, si sta sbagliando e penso che si deve fare una verifica con i suoi. Quindi è proclamato eletto con 14 preferenze alla carica di Presidente del Consiglio Antonio Donato.